Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. La regione Lombardia proroga fino al 14 luglio l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell'idea che occorre proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio, ha spiegato il presidente della regione Attilio Fontana. Fa caldo, ha detto molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anticontaggio. Prima, fra tutte, l'uso della mascherina. Nonostante il fastidio, soprattutto con il caldo, sono dell'idea, dice il presidente anche attraverso Facebook, sono dell'idea che occorre proseguire con il suo mantenimento sino almeno al giorno 14. E rimaniamo ancora sull'argomento coronavirus. In Veneto ci sono dei focolai di covid-19 attivi. La situazione viene però definita sotto controllo. Allora sentiamo il punto. In Veneto sono attivi alcuni focolai di coronavirus. Sono 22, 13 riguardano privati cittadini, quindi a livello familiare 9 nelle case di riposo. Quelli più importanti riguardano la badante moldava arrivata in pulmino con i suoi connazionali. Nei giorni immediatamente successivi alla positività della signora sono stati rintracciati i passeggeri che viaggiavano a bordo del mezzo con lei. Otto di loro sono positivi e così anche il figlio della donna. La regione Veneto ha deciso di eseguire i tamponi anche a tutte le altre badanti che in futuro arriveranno in Veneto dai loro paesi. Un altro focolai importante si trova a Feltre. Il virus è stato riscontrato in due dipendenti, colleghi di lavoro, di un negozio di ferramenta. Sono in corso vari test sulle persone vicine ai positivi. Si tratta di 25 contatti dei due casi indicati. Le indagini hanno accertato altre tre nuove positività che portano quindi i contagi a 5, una correlata al caso 1 e due al caso 2. Saranno ora eseguiti nuovi accertamenti in urgenza con tampone e con le decisioni conseguenti. E ieri sera in Lombardia sono state ricordate le vittime del Covid. Ricordare significa riflettere seriamente con rigorosa precisione su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere. Sono queste le parole più intense in un breve e sobrio discorso pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poco prima della messa da Requiem di Donizetti davanti al cimitero monumentale di Bergamo, alla presenza di 324 sindaci dei comuni della provincia, in rappresentanza dei loro cittadini per un omaggio a quei morti che non hanno nemmeno potuto avere un funerale per l'emergenza coronavirus. Fare memoria significa anzitutto ricordare i nostri morti e significa anche assumere piena consapevolezza di quello che è accaduto, senza cedere alla tentazione illusoria di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere, come prima ha detto il Capo dello Stato. Significa allo stesso modo rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato la straordinaria disponibilità e umanità di medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della protezione civile, militari, forze dell'ordine, volontari. Vanno ringraziato tutti, ha detto il Presidente della Repubblica, oggi e in futuro. Dolore in provincia di Treviso, ma non solo, per la morte di Vittoria De Paoli, 14 anni, rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto l'altra notte a Farra di Soligo. Doveva essere un sabato sera spensierato, invece Vittoria, che viaggiava in scooter assieme ad un amico, ha perso la vita. Alla guida del mezzo, una sedicenne che si trova ora ricoverato in gravi condizioni. La dinamica del terribile schianto dovrà essere ricostruita. Il conducente ha comunque, secondo le prime ipotesi, perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della luce. Parliamo di lavoro. Il Covid è arrivato come un ciclone per le nostre aziende, ma in particolare per il turismo. Sentiamo il punto della situazione e il numero delle ore di cassa integrazione usufruite in questi mesi. La crisi provocata dal Covid-19 è uno shock senza precedenti per il mercato del lavoro in Veneto, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Ad accendere i riflettori sugli aspetti qualitativi del lavoro è l'ultimo report mensile dell'Ufficio di Statistica della Regione Veneto dedicato al mercato del lavoro prima e dopo il ciclone Covid, report che sarà disponibile online sul sito. Prima della pandemia il mercato del lavoro in Veneto registrava più occupati rispetto alla media nazionale. Oggi la situazione è drammatica. In tutto il 2019 erano state concesse al Veneto 17 milioni di ore di cassa integrazione. Nel solo mese di aprile 2020 ne sono state autorizzate 113 milioni. Il settore che ha registrato una congiuntura più sfavorevole è quello degli alberghi, dei pubblici esercizi e delle attività similari. Per questi lavoratori nel solo mese di aprile 2020 sono state concesse il triplo delle ore di tutto il 2013, che per il settore è stato l'anno più duro della crisi economica finanziaria internazionale. Sono gravi le condizioni della donna colpita con proiettili sparati dal marito. Una storia terribile che si è consumata nel fine settimana ad Abano Terme, in provincia di Padova. L'uomo, 85 anni, dopo una discussione con la moglie, ha preso la pistola che deteneva legalmente e le ha sparato. Poi si è rivolto l'arma e si è ucciso. La donna è riuscita fortunatamente a trovare una via di fuga e chiamare, seppure è ferita, il 112. Trasportata all'ospedale è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ad oggi sono circa 4 milioni gli italiani che hanno scaricato l'app Immuni. 4 milioni sono però pochi rispetto ai residenti nello stivale. L'obiettivo del risultato si potrà raggiungere se la maggior parte dei cittadini installerà l'app nei loro dispositivi. Si tratta di uno strumento molto semplice nel suo utilizzo e come avrà potuto vedere chi lo ha già scaricato, si tratta di un sistema che mantiene l'anonimato. Due fatti di sangue a Padova in meno di due giorni nel weekend due ragazzi sono stati accoltellati, feriti per probabili regolamenti di conti tra spacciatori di droga. Il primo episodio si è verificato in via Falloppio, il secondo in piazza Duomo nel cuore della città. La polizia ha trovato la giovane a terra, sono scattati soccorsi, è stato trasportato all'ospedale dove è stato medicato e poi dimesso. Ed ora sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile. Adesso parliamo del bonus vacanze, si avvicina la data nella quale sarà al via, ovvero il primo luglio. Cerchiamo di capirne di più. Dal primo luglio al via l'utilizzo del bonus vacanze. L'agevolazione è rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40 mila euro. Potrà essere usufruita nel pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro da utilizzare per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a Io, l'app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoSpa. Una volta entrati nell'app a cui si accede mediante identità digitale Speedo, carta di identità elettronica, il contribuente dal primo luglio fino al 31-12 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto. In caso positivo otterrà un codice univoco o un QR-CUD che potranno essere utilizzati per fruire dell'agevolazione. E in Veneto le condizioni climatiche tendono ad un peggioramento, tanto che è stato diramato lo stato di attenzione in alcune zone del territorio fino alle 8 di domani mattina. E già gli eventi meteo perturbati sono cominciati con particolare violenza nel pomeriggio, tanto che dalle 15.30 i vigili del fuoco sono impegnati a Teglio Veneto in provincia di Venezia per un violento evento meteo di forte vento e rovescio temporalesco che ha interessato la zona. Fortunatamente non sono registrati feriti ma ci sono stati parecchi danni. Sono stati scoperchiati alcuni tetti di abitazioni oltre alla caduta di rami e alberi. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con squadre da varie località e stanno operando per ripristinare la sicurezza rimuovendo ostacoli alla circolazione ed elementi pericolosi. Sono decine le richieste di soccorso e purtroppo secondo le previsioni le condizioni di allerta rimarranno sul territorio almeno fino alle 8 di domani mattina. Dice il bollettino che è stato diramato nella giornata di oggi. In Veneto si registra una fase di instabilità a specie sui settori nord-orientali della regione con rovesci e temporali sparsi dapprima sulle Dolomiti e in successiva estensione alle prealpi orientali e localmente tra pedemontana orientale e pianura nord-orientale. Previsti possibili fenomeni localmente intensi come avete sentito accaduto in provincia di Venezia. E adesso abbiamo un'altra notizia che riguarda il territorio di Padova. cambio al vertice dei Vigili del Fuoco nella caserma del capoluogo Euganeo. Il nuovo comandante è l'ingegner Cristiano Cusin che subentra l'ingegner Vincenzo Lotito che era al vertice di Padova dal 2017 e che ora avrà come destinazione Genova. L'ingegner Cusin è padovano. E siamo arrivati con questa notizia alla termine di questa edizione del telegiornale delle ultime notizie. Io vi ringrazio per essere stati in compagnia dell'informazione di Telecittà. Vi auguro una buona serata e vi do l'arrivederci a domani. Grazie. 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 Grazie.